Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per martedì 24 settembre. I freschi venti settentrionali che seguono la perturbazione giunta nella giornata di domenica interesseranno gran parte dell'Italia ma senza fenomeni di rilievo, a parte temperature gradevoli su gran parte della penisola. Ecco allora il tempo previsto, come potete vedere, bel tempo ovunque, un po' di nuvole solo sulle regioni di nord-ost e regioni meridionali ma senza fenomeni particolari. Le temperature saranno intorno a 23-27 gradi al centro-nord e 25-28 sulle regioni meridionali e sull'interno delle isole maggiori. Vi ricordo di scaricare dall'ompeggio del nostro sito la nostra app che è molto semplice da usare.